Vi arrivano pezzoni di carne così, questo è il menù da 45 euro Te lo dico, ho molti pregiudizi nei confronti degli all you can shit, all you can eat La prima cosa che vi arriva è il tris di tartare Ciao amici di Bracemi ancora, siamo a Roma, via della Magliana Ciao Paola, hai visto in che bei posti ti porto? Via della Magliana, ragazzi se siete di Roma bene o male conoscete il quartiere Se non siete di Roma siete venuti a conoscenza di questo quartiere per la banda della Magliana La serie che ha spopolato, per quei fattacci degli anni 70 che non ci stanno più a Roma Adesso via della Magliana è una signora via, non spunterà il Dandi, non spunterà Scialoia e non spunterà nemmeno Fiero Locchio Io stavo con l'Ibanese Io stavo con l'Ibanese Ah, non avevo dubbi che stessi con l'Ibanese, ovvio Ragazzi perché siamo qua? Perché a via della Magliana ha aperto un ristorante carnivoro ormai da qualche tempo Che sta facendo parlare di sé perché propone, udite udite, il primo all you can eat di carne frollata All you can eat di carne frollata Paola non l'ho mai sentito Assolutamente Entriamo, via della Magliana 68C, il ristorante si chiama La Chianca Il nostro obiettivo ragazzi non è vedere la quantità che sicuramente un all you can eat si presume che la quantità sia tanta Ma la qualità e soprattutto vedere se hanno veramente i frighi di frollatura e se questa carne è esposta a vista Andiamo a vedere, no? Ragazzi, detti alla burina, questo ci sta ancora o no? Andiamo a vedere Guardate ragazzi, come entrate non si fanno parlare dietro Dunque all'entrata io conto Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette ante piene di carne Paola, te che sei aspetta, secondo te quante chili di carne ci sono? Così al volo 800 chili Allora, ferma, chiediamolo subito Antonio, il proprietario, quanti chili di carne c'è adesso? 780 Cavolo, ho sbagliato per 20 chili una stessa quantità Breve interruzione per un messaggio importantissimo Questa che ho in mano è la guida Stackhouse e Macellerie 2024 È la nuova edizione della nostra guida, della guida di Bracciami Ancora La trovate su Amazon, in descrizione vi lascio il link per acquistarla Dentro ci sono 700 indirizzi Da nord a sud, isole comprese, ci sono tutte e venti le regioni Tutte le province italiane Praticamente vi comprate questa guida La consultate E sapete dove andare a comprare o mangiare carne e bistecche di serie A Nella vostra zona Mi raccomando, compratela Regalo di Natale, regalo della Befana Regalo di compleanno, di Pasqua Insomma, voi la comprate O ve la tenete o la regalate Ce fate un gran figurone Ragazzi, lui è Antonio Il proprietario della Chianca Noi supponevamo che tu non sei di Bolzano, vero? No, uno che chiama il locale La Chianca non può essere di Bolzano Nelmeno di Trento, nemmeno di Treviso De dove sei? Bologna Di Bologna Salerno Salerno, Salerno ci stassi in Paris Allora caro mio, tu fai una formula particolare Mi hai chiamato, mi hai detto Voglio che venite a testare il mio ristorante Te lo dico Ho molti pregiudizi nei confronti degli all you can shit All you can eat Scusa Tu però mi hai detto no, devi venire Io ci metto la faccia Noi ti abbiamo chiamato sicuramente per farti vedere che siamo Il primo you can eat di carne frollata in assoluto Sì E poi perché you can eat non è sempre sinonimo di carne di scarsa qualità Oppure di poca qualità del ciclo E noi siamo venuti per vedere se oltre alla quantità che siete boni tutti Se c'è pure la qualità Esatto Se c'hai la qualità, bene Se non ce la fai, ti facciamo un c***o così Ma non guardare le mani, guarda le braccia Il rischio è mio Questo è chiaro Tu ti sei inventato Tre menu Esatto Uno da 45 euro Uno da 70 euro Uno da 90 euro Esatto Allora, questo è importante Caratteristica comune di tutti questi tre menu È che la carne arriva alla fine di un percorso specifico Esatto Ok? Nel menu da 45 euro ti mangi certe cose Nel menu da 70 c'è il bagu Nel menu da 90 c'è addirittura la rubia caiega Esatto Alla fine di questo percorso inizia l'esperienza, un yucarite dei bistecchi Esatto Te ne puoi mangiare allo sfidimento? Basta che la mangi Basta che se non la mangi? Viene pesato e pagato a parte Ok, tutto chiaro? Le regole sono state dette? Questa è la cosa fondamentale Se mangi un chilo, due chili, tre chili, cinque chili Non è un problema L'importante è che la mangi La carne deve essere consumata sul posto Fondamentalmente ci deve rimanere solo l'osso Ato Ci prepari il menù da 45? Prendete il posto che mi metto all'opera Bene Il vino è a parte Il vino e dolci è a parte Do in evidenza il menù rubia 90 euro Come fai a fare questo prezzo per la rubia che allega? La domanda è legitissima Soprattutto perché effettivamente Per noi è un grande sacrificio Poter dare questa tipologia di carne Con questo antipasto a questo prezzo Sicuramente c'è un accordo importante Fatto con i fornitori Dove per un periodo ci terranno un prezzo più basso Ma soprattutto è nato Per dare la possibilità a persone Che magari non sempre Si possono permettere di spendere tanto La cosa che abbiamo fortemente voluto fare Sarà limitata nel tempo Però finché ce l'abbiamo Quindi è una promozione temporanea? Sì, te la rubia sì Guarda E fammi vedere va È arrivato con la sua rubia Questa c'ha 60 giorni di frollatura La taglieresti te? Paola vai Grazie Paola Ti vogliamo bene Apri, apri Però io volevo che la tagliassi te Per un'ulteriore test di qualità Ragazzi E lei È una bella rubia Con sto bel colore che la caratterizza Guarda amica Sì, sì, sì Bella natura Grazie Paola C'è un bel profumo Una bella frollatura Oh Antonio La rubia è giusta Sì, è ok Ah, facciamo anche un assaggio Io vado Dai Madonna E lei? Assaggiava? È rubia Buona È rubia Devo dire Di rubia ragazzi Che il menù Vagiu È veramente Vagiu Andiamo a provare Pure? Non si fanno tutti i menù Si fanno con sta storia Ma chi mi dice che le polpette Sono veramente polpette? Non ci posso andare avanti Per 15 giorni così Faccio vedere sto Vagiu Paolissima Fai il check È Vagiu? È Vagiu È Vagiu? È Vagiu Quindi nel menù di 70 euro Vagiu C'è Vagiu L'azienda la conosco pure Non facciamo pubblicità Ah questa azienda Aspetta metto il dito Ciao azienda Ho messo il dito Così mi direte Nel menù quanto ce n'è stato Vagiu? 100 grammi circa È mica male 100 grammi di Vagiu 70 euro Però noi Questo non glielo famo aprire No? No Dai il Vagiu non te lo facciamo aprire Perché sta sudando freddo Il Paolo Antonio Non ti preoccupare Abbiamo visto È Vagiu reale È Vagiu reale Il locale lo abbiamo visto Abbiamo testato Che nei due menù C'è la carta che dici A sto punto Mangiamo se Il menù da 45 euro Oh ragazzi Sapete perché Paola C'è sto sorriso meraviglioso Perché è appena arrivato Il menù All you can eat Pa 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 Questo è il menù Da 45 euro Potenzialmente Potreste Mangiarvi Tutta questa Roba È ovvio ragazzi Che stiamo Un po' Esagerando La stiamo spingendo Al limite Ma se avete Fame Avete possibilità Avete lo stomaco Che praticamente Deve essere un lavandino Voi potreste Mangiarvi tutta questa roba Per 45 euro Ve la faccio vedere da vicino La prima cosa che vi arriva È il triz di tartare Sbeng Poi abbiamo Un carpaccio Eccolo qua Dopo il carpaccio Vi arriva questo roast beef Dopo il roast beef C'è questo pentolino Con delle polpette Dopo le polpette C'è questa genovese La regola è chiara ragazzi Se ve la mangiate tutta Ve la spolpate E lasciate solo l'osso Pagate 45 euro Se però la lasciate La pagate al chilo Quindi Responsabilità E intelligenza Quando la ordinate Allora Io vorrei dare un consiglio Che viene qua Io farei così Dopo l'antipasto Metti che sei una coppia Un gruppo di amici Una bistecca alla volta Ok? Così Nessuno lascia niente Non avete il rischio Di pagare Tutto per intero Giusto Grazie del consiglio Vai pa Io parto col carico pesante Qua ci sta pure il tartufo Ragazzi Comodorini secchi Alice Allora Michele La mia preferita È quella col tartufo Non è il Diciamo lo scorzone Classico Questo sia dall'odore Che dal sapore È lunginato Ho una passione Per questo tartufo A me è piaciuta Invece questa qui Con la composta Di pere E le noci Dolciastra Mi è piaciuto Iniziare col dolciastra Per essere un All you can eat Hanno anche coraggio Di osare Nel senso C'è molta personalità In queste tartare Carpacetto Vado Vuoi? Parte il primo Safaissimo Della giornata Ragazzi Sul carpacetto Eh sì Perché allora Io ad occhio Avevo visto che C'era una lavorazione Dietro questo carpaccio Ho chiesto Ad Antonio Che il proprietario Mi ha detto Che loro Vanno A fare una Semistagionatura Di quello Che è il taglio Di questa carne Per poi Portarlo A tavola Sotto forma Di carpaccio E anche L'abbinamento Con il cappero Il pomodorino E questa salsa verde È veramente Serie A Paola Tu sei sempre Una gran signora Perché hai preso Una fettina sola Io invece Ho io Fa un bel Uno di quei Bei bocconi Ignoranti De quelli che farebbe Il libanese Bocconi alla libanese Vabbè Dai Non si può fare Considerando che stavo sempre a pagare 45 euro A casa mia Non si può fare E se volete ragazzi c'è pure il letto di insalatina Per dare volume e colore Quella però si può lasciare Ross beef Con salsetta Mango Scalogno E lime Impressioni La cottura È fatta bene Già si vede ad occhio Strong come abbinamento Nel senso Bello D'impatto Però mi piace Secondo te Qual era il personaggio Più coatto Della serie Romanzo criminale Forse Il bufalo Bufalo Boccone Alla bufalo Nooo A bufalo sarebbe sicuramente piaciuto Piace anche a me Ha ragione Paola Ragione Per essere un all you can eat Non puntano allo zero a zero Ma ci mettono del loro Qua già per me vincono Perché voglio dire In un you can eat Alla fine Basta che dai Riempi la pancia Le persone Invece loro Ci mettono impegno Si vede che c'è un pensiero Dietro ai piatti No Dalla tartare Al carpaccio Che lo fanno loro Questo è il roast beef Fatto da loro La salsa Tutto E questo è Un grande plus Per me È arrivato il momento Della polpetta Paola Tu che sei chef Che di cucina ne hai viste Che di fronte ai fornelli Hai lavorato Che di persone ne hai servite Come se fa a vede Sei una polpetta È fatta bene È fatta bene Innanzitutto se c'è la forma Da polpetta Prima cosa E vabbè È su quello La seconda Che sembra banale L'importante è che la carne Non sia fuiuta Nel senso che la polpetta Al di là di un po' di pane Che ci si mette Ma la maggior parte Deve essere fatta di carne La forma da polpetta Ce l'ha Ce l'ha Vediamo se c'è sta Più carne Vado Vai O più pane Come stavamo messi Qua stavamo messi Che mi sa che il pane È proprio impercettibile Davvero? Guarda qua Quindi a Napoli Come direbbero Che il pane è fuiuto Il pane è fuiuto C'è un nome per ste polpette Polpette dal pane fuiuto Genovese di carne? Mentre io l'assaggio Paola vi dice De che stiamo a parlare Allora Innanzitutto la genovese Caro Michele È ovvio che è di carne La particolarità di questa ricetta È che c'è un quantitativo Di cipolla Che è la cipolla Quella dorata Che è il rapporto Rispetto alla carne Diciamo Un 5 a 1 Dai In questo caso la carne è preponderante Nel senso Genovese sì Cipolla sì Carota sì Un po' di sedano sì Però la carne si sente assai La promuove questa genovese? Sì Allora ragazzi Fino adesso abbiamo mangiato carne Certo Non bistecca L'obiettivo degli All You Can Eat È farvi fare un percorso carnivoro E fin qua ci siamo Il più appagante possibile E qui ci siamo E portarvi Giustamente E realisticamente Ragazzi Al momento della bistecca Che siete Non dico Satolli Non dico Pieni come nuovo Ma che vi è rimasto Lo spazio giusto Qua se siete Mangioni di serie A Godete 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 Se invece siete Mangioni e basta O Mangioni responsabili O Mangioni oculati Vi ordinate una bistecca O come ha detto Paola Una bistecca alla volta Se siete una tavolata Anche in due no? Partite con una Poi se ci avete fame Vi pigliate la seconda Critica a questo menù Che abbiamo mangiato fino adesso? Sinceramente Non mi sento di farle Tecnicamente C'era qualcosa di sbagliato? Allora Io sono rimasta colpita In maniera positiva Tecnicamente Voglio dire Sono comunque cose semplici No? Da fare Però c'è stato anche L'impegno Il rischio Di fare qualcosa Di pensato E adesso ragazzi È dato il momento Di scegliere La nostra bistecca Paola Ce ne sono una decina Scegliamo insieme? Noi dobbiamo essere quelli Diamo il buon esempio Una alla volta Una alla volta Giusto Dimmi Paola Ci deve essere l'unanimità Mi raccomando Allora guarda A me le cose perfette Non mi piacciono Io sono fatta strana Cioè questa È la tibona perfetta No? Vedete? Sì è lei Sì 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 Io voglio questa qua sotto Quale? Questa è un po' più così Un po' più timidina Più frullata La vedi più frullata Ok Va bene Sì 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 Mi piace Il filetto è poco A me piace più La parte dove c'è più costata Esatto E la cottura Io la lascio scegliere a loro Benissimo Una cosa che non vi fanno vedere mai È il dietro Le quinte Dei ristoranti Che fanno All you can eat Eccola là La nostra bistecca ragazzi È in cottura Antonio Allora Tutto bene Fino adesso Stiamo aspettando il bistecchone Ma la domanda sorge spontanea Che carne Ci stai a dare? Una frisone italiana Con circa 40 giorni di frullatura Altra domanda Ma alla fine di questo menù Troviamo sempre la stessa carne Troviamo sempre la frisone italiana Trovate le carni Che sono disponibili In quel preciso momento Oggi abbiamo tagliato Due lombi Di frisone Ok E le frullature pure cambiano? Solitamente noi Sui 35-40 giorni Tagliamo la carne Poi hai deciso È quello È i giorni in cui tu puoi froscire i bistecchi Dai feedback dei clienti Sono i giorni migliori Bene Grazie Perfetto E arrivò la nostra bistecca Ragazzi se ve la mangiate tutta Pagate 45 euro Se la lasciate La pagate al chilo E lì il prezzo sale Ah ragazzi Qui si usano questi piatti Ok Eco Friendly Ecologici Ecco tutto Il filetto L'ho assaggiato Devo dire E' buono Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Rientra nei caloni standard Passabile Mi piace Assaggiamo la costata La cottura per i miei gusti È andata un po' oltre Ma ragazzi sapete Io amo la carne al sangue Amo la carne praticamente rare 48 gradi al cuore Che dici Paola Ma Michele ma stai scherzata Ma tu è la carne che fa mu Vabbè Costate il filetto Promossi E' una carne Questa Che sa Di carne Ehi C'è Michele Che dici Queste banalità Nel senso che Ha pochi fronzoli Ok Non ha il retrogusto Della mucca Che pascolava Grass fed Sul pascolo Non si sente L'amarezzatura estrema Non c'è il sentore Di nocciola Però è una carne Che per essere Un entry level E' una carne Di ottima qualità Ripeto Parliamo ragazzi Di entry level No di super carni Super ricercate Stiamo sempre pagando 45 euro E' saporita Il gusto Non è un gusto complesso Attenzione Parliamo Di una fissione italiana Onestissima E ho trovato Delle carni inferiori In altre ste cause Insomma Che non hanno Questa formula Per me Approvata E se permettete Prima delle considerazioni Finale Mi volevo sgranocchiare L'osso Che è sempre Una mia grande passione La ciccia meglio Secondo me Sta sempre attaccata All'osso Mettete il naso Dove l'osso Fa l'angoletto Perché potrete sentire Il sentore Della frullatura E c'è E c'è Accennato Lieve Delicato Ma c'è Sgranocchiando L'osso Godendo Del succhetto Della carne Mortacci Quanto è buono C'è sta tutto Ragazzi Siamo alle battute Conclusive Questo è quello Che abbiamo Lasciato Se un cliente Lascia Praticamente Due pezzetti Di carne In quel caso Quanto paga? Tecnicamente Dovrebbe essere pesata E pagata a parte Quella roba che è avanzata? Sì Ok Come tutti gli oliutenit Se un cliente Ti ha mangiato Gli antipasti Ti ha mangiato Una bistecca Che questo era almeno Un chilo e mezzo Sì E non di più Restano due pezzetti E' normale pure Uno non è che può scoppiare Sicuramente meno della metà Ragazzi Sopra di questo Rischiate che ve la pagate a peso A 6 euro letto Quindi 6 euro letto A posto 60 euro al chilo Però ragazzi Era per correttezza di informazione Per farvi capire Gli standard Di questo posto Vai Grazie a to Ragazzi Battute conclusive Qui alla chianca E dobbiamo fare Delle considerazioni Partendo dal presupposto Che abbiamo speso 45 euro Paola A te chiedo Valutazione Della materia prima La carne Che si siamo messi Sotto i denti Secondo te Com'era? La qualità E' buona Su questo Non si discute Una carne sincera Trattata anche bene Piatti anche pensati Quindi io L'approvo Totalmente Ok Quindi promosso per te La qualità Sì promossissima Allora amici di Pesce Ma ancora Voi lo sapete Noi facciamo addirittura La classifica Che pubblichiamo ogni anno Delle migliori 21 Stackhouse d'Italia La trovate sul blog Qualcuno potrebbe dirmi Michele E questo ristorante Sta tra le migliori 21 Stackhouse d'Italia No non ci sta Perché è un altro pianeta Gioca un altro campionato Torneresti qui Eh sì Ci tornerei Però ci tornerei Sicuro non ci tornerei Con l'amministratore delegato Che ne so Da wind Ma il mio miglior amico Qui ce lo porterei Mio figlio qui Ce lo porterei a voglio Per mangiare Una carne Che è una Entry level E noi Abbiamo assaggiato Solo Il menù Da 45 euro Per me ragazzi Questo ristorante Merita di stare In questo canale E di essere raccontato Mo' dobbiamo andare A cercare Il libanese E il freddo Ma che devi cercate Ce lo porto io no? Senti ma C'è pure il contatto De Patrizia Chi è? Ma come ti permetti io? Io chiedo Ma andare È lecito Rispondere cortesia Ma che si è offesa Ma questa si è offesa davvero Paola Paola Ma stava a scherzo Su Patrizia Era una battuta Senti Bel posto Ti volevo dire Che era Paola Tornerai a fare i video con me Vediamo perché ho chiamato Del bufalo E ora ci pensa lui A te Ciao Amici di Bracemi ancora Venite qui alla gianca Perché merita Posticino molto grazioso Un abbraccio Ci vediamo al prossimo video E che l'abbraccio sia con voi